buonasera ciao inglese qua è ok parli inglese puoi salire salì buonasera 30 puoi salire si buonasera piacere giuseppe piacere chiudo senti nicola hai detto no sai un posto tranquillo qui vicino e tu sei di fa freddo oggi si muore non so come fate voi giustamente da questa parte qua sentiti posso possiamo andare da quella parte la che conosco è sempre qua vicino io ti pago sì perché hai detto quanto 30 30 euro ok un attimo solamente guarda non ce li ho qua dentro dovrebbero controlla un attimo nel porta oggetti per favore guarda bene rosa esatto la puoi prendere sì 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 come no perfetto questo è per te oggi che giorno è giovedì giovedì oggi giovedì 14 perfetto che cosa è 14 ebbraio è perfetto ok san valentino ma non so di dove sei sono festeggiate penso che è una cosa di tutto il mondo no no però non fare così se non mi emoziono pure io aspetta ok ok senti mi sono permesso un attimo una piccola sorpresina maestro presenti non mi ecco c'è un'altra sorpresa ok c'è una cosa c'era un'altra sorpresina è con me sta con noi tranquilla non succede niente grazie grazie prego maestro può continuare sei molto gentile no figurati auguri quindi anche a te anche se non ci conosciamo però e tutti i giorni maestro grazie prego figurati in bocca al lupo si dice così si dice così ciao maestro però non ti è cagato nessuno eh ma proprio a zero non ti è cagato nessuno zero 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 però è stata una bella cosa è romantico una bella cosa una bella cosa a San Valentino grazie a tutti